ciao ragazze e ciao ragazzi e bentornati su radio recensioni di bellezza nella puntata di oggi voglio parlare un po di un prodotto più che più di un prodotto di un attivo molto caro diciamo alle pelli mature ma dovrebbe essere diciamo ben evidenziato ben utilizzato già in in età giovanile e sto parlando dell'acido ialluronico l'acido ialluronico che come sappiamo è prodotto dalla nostra pelle ma che con l'andare del tempo comincia la sua produzione a essere diciamo a diminuire e quindi diciamo come conseguenza abbiamo un manifestarsi delle rughe la pelle un po spenta comincia la pelle a perdere tono e quindi dobbiamo integrarlo attraverso appunto dei sieri delle creme che lo contengano e indipendentemente dal tipo di acido ialluronico che si andrà a utilizzare è importante però utilizzarlo correttamente e oggi quindi parleremo di come applicare efficacemente il siero all'acido ialluronico per ottenere i migliori risultati per la nostra pelle come come non so se lo sapete ma probabilmente sì l'acido ialluronico è un potente umettante che ha la capacità di catturare le particelle d'acqua e idratare in profondità la pelle anche se poi sappiamo che in realtà non riesce a diciamo penetrare negli strati più profondi della pelle ha anche proprietà rimpolpanti antirughe leviganti e illuminanti tuttavia ci vogliono però delle accortezze da seguire per evitare di ottenere l'effetto contrario cioè una maggiore secchezza infatti molte persone proprio si lamentano che l'utilizzo dell'acido ialluronico non hanno con l'utilizzo dell'acido ialluronico non hanno quei risultati che che si aspettano perché magari la pelle appare più secca e però c'è un motivo c'è un motivo e oggi sono qui appunto per svelarvi tre consigli utili proprio per l'applicazione e per ottenere appunto il massimo beneficio da questo importante attivo che come ripeto è un prodotto naturale perché è prodotto dalla nostra pelle prima di tutto iniziamo con una pelle ben pulita quindi prima di applicare un siero all'acido ialluronico una crema all'acido ialluronico assicuriamoci di detergere accuratamente la pelle quindi effettuare tutti i passaggi della detersione è importante proprio per avere una pelle il più pulita possibile quindi rimuovere ogni traccia di trucco di sporcizia o impurità con un detergente apposito una pelle infatti pulita crea una base ottimale per l'assorbimento del siero utilizziamo poi un qualcosa a cui l'acido ialluronico è particolarmente caro ossia dell'acqua l'acqua che però non deve essere presa dalla nostra pelle ma la dobbiamo aggiungere perché se l'acido ialluronico trattiene l'acqua che abbiamo sulla nostra pelle avremo proprio quell'effetto contrario cioè di maggior secchezza invece se prima dell'applicazione dell'acido ialluronico utilizziamo un tonico un'acqua termale o un'acqua di rose e avremo otterremo un un grande beneficio quindi dopo la detersione applichiamo un tonico un'acqua termale o un'acqua di rose per preparare la pelle all'assorbimento del siero questo ci aiuterà da una parte a ristabilire l'equilibrio del ph della pelle e creerà un ambiente favorevole per il siero all'acido ialluronico a questo punto applichiamo il siero sulla pelle umida quindi una volta che ci siamo spruzzati il sulla pelle il tonico l'acqua termale possiamo prelevare una piccola quantità di siero all'acido ialluronico su pelle ancora umida l'acido ialluronico quindi funzionerà meglio quando viene applicato su una superficie umida perché aiuta a trattenere l'umidità e a idratare in profondità si prosegue poi massaggiando delicatamente fino al completo assorbimento solo con questa diciamo con questa mossa voi riuscite ad avere appunto il massimo del beneficio dall'acido ialluronico perché come ripeto l'acido ialluronico applicato su pelle asciutta andrà a tirare l'acqua già presente sulla pelle ma se noi prima di applicare l'acido ialluronico ci spruzziamo del tonico dell'acqua termale quell'acqua verrà assorbita dall'acido ialluronico e in questo modo la pelle risulterà luminosa rimpolpata e le rughe risulteranno appianate c'è un ultimo accorgimento che bisogna però sempre tenere in considerazione che è appunto l'evaporazione dell'acqua quindi noi non vogliamo che l'acqua appunto evapori troppo velocemente e quindi è importante sigillare questa diciamo questa operazione con una crema idratante che può essere una crema ancora contenente acido ialluronico comunque una crema adatta al nostro tipo di pelle però questo aiuterà a mantenere il giusto grado di umidità della pelle applicando appunto immediatamente subito dopo l'applicazione del siero all'acido ialluronico una crema idratante adatta al nostro tipo di pelle questo aiuterà a sigillare l'umidità quindi andremo proprio a creare un effetto barriera un effetto barriera protettiva sulla pelle e insieme all'acido ialluronico la crema idratante aiuterà a mantenere l'idratazione duratura e a mantenere la pelle elastica luminosa e rimpolpata per tutta la giornata cari amici seguendo questi tre consigli potrai sfruttare al meglio i benefici del siero all'acido ialluronico per ottenere una pelle sana e radiosa e ricorda sempre di adattare la tua routine di cura della pelle alle esigenze individuali della tua pelle quindi se hai una pelle secca devi cercare una crema adatta alla tua pelle la stessa cosa se hai una pelle grassa ma il siero all'acido ialluronico è adatto a tutti i tipi di pelle se però hai dei dubbi o delle incertezze consulta un esperto o comunque un dermatologo che ti aiuterà a togliere tutti i dubbi grazie per averte ascoltato e ci 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 vediamo a un prossimo episodio di radio recensioni di bellezza un abbraccio a tutti ciao a presto grazie a tutti